Buongiorno FTA Online, Fuzzimib negativo questa mattina, in questo momento siamo a meno 0,6% circa, intorno ai 16.450 punti, le quotazioni sono quindi molto vicine ai minimi di ieri, posizionati intorno ai 16.440, sotto quei livelli avremo un segnale di debolezza preoccupante, almeno di breve, che potrebbe anticipare il ritorno sul forte supporto di area 16.200-210, la violazione di quei livelli comporterebbe poi un ulteriore deterioramento del quadro, facendo temere ribassi nell'ordine dei 500 punti circa, solamente al di sopra di area 16.600-620 possibile invece un tentativo di crescita con primo obiettivo di 17.000 punti. Tra i titoli da seguire con attenzione questa mattina c'è Leonardo Filmeccanica che cerca di opporsi alle vendite, già nelle ultime sedute erano stati inviati dei segnali di forza molto interessanti, vediamo infatti la rottura del massimo del 23 marzo a 11,47 Euro, livello critico che era poi stato testato anche il 24 ottobre e superato finalmente in modo molto netto il 9 novembre. I prezzi successivamente sono saliti a toccare ripetutamente nelle ultime 3 giornate area 12,50, questa mattina siamo a poco al di sotto di quei livelli, è possibile effettivamente che nel breve termine il titolo vada incontro a una flessione, quindi un return move a toccare dal basso il precedente significativo livello di resistenza, ma successivamente ci aspetteremo un rialzo ad intercettare i massimi della fine dello scorso anno posizionati a 13,94 Euro. Quindi una situazione positiva per Leonardo potrebbe diventare anche interessante da un punto di vista operativo se effettivamente i prezzi andassero incontro a una flessione tra gli 11,5 Euro e i 12 Euro, in quel caso si potrebbe comprare con uno stop da posizionare subito di sotto del supporto critico di area 11,49 con una buona prospettiva di crescita. In un'ottica temporale più estesa vediamo che il movimento di ripiegamento che c'è stato nella prima parte dell'anno è una correzione del precedente ampio rialzo, in termini di risarciamenti Fibonacci di quel rialzo è stato ripercorsa la metà circa, è questo un ottimo motivo per pensare che il movimento di crescita delle ultime settimane sia probabilmente la ripresa del trend crescente a lungo termine che potrebbe quindi anche riportarsi al di sopra dei massimi dello scorso anno di area 14 Euro. Quindi un quadro positivo anche se si va a ispezionare il contesto di più ampio respiro. Molto bene questa mattina anche Maira e Technimont, il rialzo è 0,5% circa, siamo a 2,45 Euro, situazione molto simile a quella di Leonardo, anche qui c'è stata la rottura di un'importante resistenza, il massimo del 19 di luglio a 2,41 Euro, successivamente i prezzi si sono allontanati da questa soglia, ma lo hanno fatto per il momento in modo non così evidente, area 250 ha contenuto il rialzo, riteniamo però che il segnale di rottura del massimo di luglio di area 240 sia un segnale interessante che dopo un'eventuale pausa che potrebbe riportare le quotazioni al limite e anche attestare dall'alto questa linea di tendenza, quindi fino a 2,34-2,35, dopo questa pausa riteniamo che i prezzi abbiano una buona possibilità di tornare a crescere con obiettivo sui massimi del mese di marzo a 2,75 Euro circa. Abbiamo una situazione pregressa sicuramente interessante con le quotazioni che avevano disegnato questo triplo minimo tra agosto e ottobre, una figura rialzista che fornisce una buona base quindi adesso per il tentativo di rialzo in corso, un ulteriore motivo per pensare che anche a seguito di un'eventuale flessione nel breve termine ci sia spazio per una successiva crescita che potrebbe anche dimostrarsi estesa, al di sopra del target offerto dai massimi del mese di marzo a 2,75 Euro, i prezzi potrebbero estendere fino al lato alto di questo ipotetico canale crescente intorno ai 3,10 Euro, quindi positivi fino a che i prezzi si manterranno di sopra di area 2,30 Euro solo in caso di violazione di quei livelli, il rischio invece di andare a testare la linea di tendenza che sale dai minimi di febbraio e che attualmente transita intorno ai 2,10 Euro. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il consueto commento giornaliero, grazie.